Salve. Buonasera. Scusi, è una puttana, eh? Puttana, eh? Eh sì, quella che è Bud... ...dalle strade. Oh, sì, sono io, una puttana. Sì, sì, scusa. Mi prezzo un po' al tiro, però, eh? Sì, un po' al tiro. E cos'è la figa d'oro, eh? Nonna, sono Power Rangers. Non ci credo. Eh... Ma quanto viene? Eh, un po' al tiro, il prezzo facciamo 500 euro. Nonna? Eh... Ma, dimmi una cosa... Ma adesso viene a casa che ti faccio un servizietto, come si tende.